Anche se in principio ero scettica, alla fine ho colto il senso delle parole di Liu Kang. Esiste un bene superiore all'equilibrio auspicato da mia madre. La virtù deve essere lasciata maturare. Ma per quanto manipolassi il tempo, non riuscivo a estirpare il male. Nonostante avessero tutto, i mortali continuavano a uccidersi, divisi per razza e origine, trovavano sempre giustificazione all'odio, arroganza, avidità, invidia. Per apprezzare i miei doni, i mortali dovevano essere purificati. Per questo ho battezzato i regni con il fuoco. I mortali combatteranno il male per secoli, giungendo infine alla vittoria. E quando emergeranno dalle tenebre, saranno più umili, bramosi di abbracciare la luce.